Il primo ministro inglese, Theresa May, arriva tra gli applausi a Guildhall, l'antica sede del municipio di Londra, per il tradizionale banchetto del Lord Major. Ma non è solo una serata di cerimonia e festa, è anche l'occasione per sferrare un duro attacco alla Russia a Putin. La missione illegale della Crimea alla Russia è stata la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che una nazione sovrana ha preso con la forza il territorio di un altro paese in Europa. Da allora la Russia ha fomentato il conflitto nel Donbass in Ucraina, ha ripetutamente violato lo spazio aereo nazionale di diversi paesi europei e ha montato una campagna denigratoria sostenuta da spionaggio e pirateria informatica. È un pericolo per noi. Secondo la premiera inglese, la Russia e il suo presidente Vladimir Putin rappresentano un'autentica minaccia. Theresa May ha accusato Mosca di ingerenza nelle elezioni di diversi paesi e di accheraggio al Ministero della Difesa della Danimarcha e al Parlamento tedesco, oltre alla diffusione di fake news e di fotomontaggi nel tentativo di minare le istituzioni occidentali.